finitedcandys3demo finitedcandys3demo general lock demo che cazzo sta roba benvene a questo ragazzi oh mio dio vado su gamejolt il mio cuore esplode è uscito finitedcandys3demo cos'è sta roba è veramente uscito però emil emil se stai guardando sto video mi prendi per il culo ho aspettato tutto questo demo fino al 2 ottobre non è che dal letto mi spunta nightmare rat oh non manco i naoni avevo così tanta ansia se vabbè raga raga però una cosa per capire sta roba è qui dove vengo raga sciollanza io nel trailer l'ho vista da questa parte da questa parte qui no raga ho aspettato tutto questo tempo per questa roba qui che mi sta preoccupando emil ma perchè perchè mi odio di perchè emil mi odio paura l'ho visto raga l'ho visto chissà tra l'altro cat perchè io ho visto il teaser che è cat quindi chissà come sarà cat però mi sa che nella demo non c'è perchè ma cos'è sta roba ma se prima era dell'altro armadio vabbè c'è arrivato subito da questo vabbè ciao ragazzi io non sto il jumpscare io mi cago addosso io mi cago addosso no vabbè raga io ho paura di jumpscare non ce la faccio eppure tu ti fai dei candies di sto jumpscare fa paura ma in questo qui mi cacherò addosso che figata posso combattere netmer ah ah